Ne ha fatto ma qualcuno è da carbonare, anche entrato in Rossella. E' un mestiere del 1.948, no non 900, 848. Questa è la croce che i cacciatori rilesti, questa è una croce contro il fuoco. Perché contro il fuoco? Perché io e mio padre non lo sentivano. Ah sì, mettevano la croce? Una croce. Anche quando seminavano il grano mettevano la croce, alla fine. Lo vedi? Come pippa. E adesso quanto dura? Due o tre giorni. Due o tre giorni? Eh, due giorni sicuro. Eh, tutta la notte, mettevano il sveglio tutta la notte. Perché fino qui deve essere già tutto conto. Poi si chiude. Questo buco qua e lì ne va uno qui. Più basso, eh? Eh, sì. Ma quando è che si fanno i buchi più bassi? Quando è finito di fumare? Quando qui, che non fuma più, è cotto. È cotto quella parte sopra. Ho capito. E allora chiudi, nasce questo e lo fai qui. Allora.